Yeah Incredibilmente Oggi ragazzi salutati qua con l'episodio del conquistatore Oggi ragazzi conquisteremo Lande Letali Se mi apri anche la cassa mi fai anche un piacere La scorsa volta abbiamo conquistato Eh no, anche l'Archici La scorsa volta abbiamo conquistato appunto Lande Letali E adesso Che facciamo? Non conquistiamo l'Archici? Così le fattorie le abbiamo conquistate tutte Spero che ci sia qualcuno da shottare Ah raga Devo dire anche una cosa importante Abbiamo fatto il video che dovevo uscire oggi Intanto non era conquistatore Era una serie che ho sempre che portato avanti Quella prova a non vincere senza armi Solo che così a un momento abbiamo deciso Non facciamolo senza armi Proviamo a vincere senza Cioè con la prima arma che trovavamo Potenziandolo ovviamente trovavamo la persona più forte diciamo E io ho fatto il video in questo video insieme a Criandre Che è un canale che vi metterò soprattutto in descrizione E niente Comunque Io ho convinto Le abbiamo iniziato la registrazione Facciamo una mega partita e la vinciamo Ovviamente siamo attirati a Spagge Snob Abbiamo fatto non so quante eliminazioni non mi ricordo Però un po' di eliminazioni le avevamo fatte Sono riusciti a dare i primi Che faccio raga? Provo a stoppare la registrazione E quando stoppo Venne stata una nuova Che vuol dire che non me la sa Cioè che non l'avevo iniziata Fiali sleeper li regalano Mi ho passato malissimo Ho detto come cazzo è possibile Che figa Non me la aveva registrato sta partita qua Partita veramente bellissima Io avevo lo scar Cioè alla fine io avevo lo scar E lui aveva il lanciarazzi Perché è stata la prima arma che ha trovato Lo so sembra incredibile Ma se andate a vedere il video Raga vi assicuro che Non Qualcosa Che è veramente veramente bello Dicevo Soprattutto non ve le pentirete E' un ottimo posto qua Allora Allora Ovviamente raga Io metto sempre per prima Le armi che uso sempre di più In questa cosa io uso sempre Il pompa e la louison Che a mio parere Dopo magari mi sbaglierò È Fortissima Ma qua non c'è nessuno Però Ha notato Qua Credo Magari dopo mi sbaglio Io Non lo so Fatemi un attimo controllare Qua Infatti Non si saranno accorti Non qui mi era accorto Tra l'altro Di queste bellissime munizioni Qua la cassa non è aperta E Lancia l'azzi E Fucile per il cecchino Allora 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 Tra l'altro Raga per sbaglio Ho già dato le cuffie Cioè sto dando le cuffie Quelle Diciamo per l'iPhone Quindi non sentirete molto bene Però fa niente Volevo porta Bella questa Aspetta Facciamo Così Raga questo che è fortissimo Preferivo uno scala E vi dico la verità Però vabbè Chi si accontenta Può anche godere Madonna Non c'era nessuno Cioè è impossibile Ogni partito Cioè ci sono C'è mille genti Decido di saltare il video E non c'è una minchia di nessuno Paglio Voglio fare la strage Però Se non c'è nessuno No A parte scherzi Credo che almeno qualcuno Atterrasse qua Visto che Sembrerebbe una partita noiosa Vorrei Vedere un pochettino più Cattiva Via la palestra Che fa cagare Se non è che fa cagare Però Ora che ci prendo la mano In pratica L'avranno già tolta Qua sopra c'è la cassa L'avevo già vista Eh ma mi prendi per il culo Però Eh no Non si fa così Dai Non c'è veramente nessuno Sono molto gentile Lasciarmi tutto questo Bellissimo campo Solo per me Allora Ho visto che è una partita Un po' diciamo così Abbastanza Noiosetta Preferisco andare verso To meet your town Man Il fantastico town Where Qua non c'è un kit Guardaci Diregiamoci andare verso Questa Fantomatica Ma raga Io Secondo me ho conquistato Dopo ditemi voi Se non ho conquistato Visto che Sono nato praticamente ovunque Non c'era nessuno Se volete raga Che faccio un altro video In cui magari la conquisto Cioè io vi giuro Che non sapevo che non c'era Io sono fatto questa partita Ho avviato il video Ma magari c'è qualcuno Invece Non c'è una minchina Ma come sapere ragazzi Volete che la conquisti Dicevo Cioè Mostro una partita Non in live Come questa E magari Una partita che faccio io da solo E cerco di conquistarla Facendo molte kill Oppure se Provo è già conquistata Scrive da sotto I commenti Vi una commenta Ah comunque ragazzi Riesco Mi metto comunque La clip Della vittoria reale Che ho fatto Con Kriand Che Siccome lui È riuscito a fare E sta registrando Anche lui Per fortuna È riuscito Lui a tenere la clip Lì c'è fra l'altro La cosa della non lunare Lui ha tenuto la clip Quindi Lui ce l'ha E Ho chiesto se è venuto A mandarmela Ma Non l'ho fatto in tempo Quindi Purtroppo Purtroppo Dico Purtroppo Perché quella lì Era veramente Una partita Che meritava Eh Però Vabbè Fa niente Vincerò questa partita Per lui Per il mio Io se ci vuole Magari tante volte Comodata non c'è qualcuno Cecchini Ma l'hanno fatto Dalle scale Però non credo Che ci sia qualcuno Scusate Non spero Ho sentito Un cecchino A sparare Per poi Riesco ad andare A controllare Chi sa La cazzo Sarà Allora Vediamo Se faccio Qualcuno Io non sento Nessuno Vedete che vi dico Sto riflettendo Con lo scar Non capisco Da dove Però Sento che sono Abbastanza Lontani Allora Siamo in safe Bene Quella La d'orilliera Strano Vabbè Potrebbe essere Sprecata Potrebbe essere sprecata Voi direte Ma secondo me no Perché comunque Se sei in una posizione elevata Non è mai sprecata Senti Allora Allora Vediamo se ci faccio Qualcuno Io vorrei tanto Coprire dietro Perché Ho paura Ho paura Facciamo così Eh Rega So che ho sbagliato Però Allora C'è stato Secondo me Sta partita Allora La safe sicurezza Tra 50 secondi Quindi La gente Deve ancora arrivare C'è un aero C'è il sole Allora 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 Se non becco nessuno Veramente Io non so cosa fare Sto partito Potrebbe diventare Una partita One kill to win C'è Sento neanche farlo apposta Ehi Sono qui Cioè Se vieni in carica Con questo R verde Che Non shotta Manco i topi Oh Sette secondi Figa Allora 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 Se venite Vi sto aspettando Faccio un po' Il giro Alla L'invito Della safe Così Qualcuno Gli rubo L'anima Diciamo No Non è Questa Non è safe Se non sono montagna Che è meglio Che è meglio Che è meglio Allora Dai qualcuno Qualcuno qua Ci deve essere Adapianarchici Non c'è nessuno Ah rega Siamo Vicini Da nostra safe Farevo di andare a fare un giro Di tutto questo percorso Qua Un po' Giro di tutto il mondo Diciamo Questa è una partita di merda Cioè Non è di merda Però Non sto facendo più kill Vorrei Alimentarle Un po' Diciamo Vediamo se riusciamo a trovare qualcuno Allora 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 Magari qua C'è qualcuno che vuole andare in safe E Ce lo prendiamo La tempesta ha inghiottito questo qua Bene Invece gente E va molto Perché è bene Questo qui Rega Io vi dico la verità È un coglione Ah no Però Ha ucciso la gente Andiamo 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 Perché forse non ci vede No È giusto Troppo lino Eccolo 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 Ma raga Potremmo morirci Però Potremmo anche provarci Oh What the fuck Oh mio dio Ma che cazzo è Rambo Porca puttana No vabbè raga È impossibile Credo che Tutto Tutto Che Andiamo Grazie.